Ciao, benvenute e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come sviluppare il modello tridimensionale di un pacchetto con struttura telaio o platform frame. Io ho già realizzato la sezione 2D con tutti gli strati, con tutti gli spessori e i materiali che compongono ogni singolo strato. La fonte è sempre datahalls.eu, questo è il codice del mio pacchetto, il pacchetto di riferimento che ho scelto per questo video tutorial. Ho appunto riportato naturalmente con tutti i layer, con tutta la gestione dei layer, ho riportato tutti i vari strati. Ho poi già realizzato una copia dove ho reso praticamente delle polilinee tutti gli strati che compongono il pacchetto. Quindi come vedete sia i materiali isolanti, così come la parte strutturale, quindi queste travi. Vedete che con l'utilizzo dei filtri del gestore della proprietà dei layer riesco a facilitare, sicuramente a velocizzare anzi la gestione dei vari layer. Poi ho realizzato un'altra copia con un opposito filtro che ho realizzato sui layer, dove ho modificato i colori cercando di simulare il più possibile, diciamo concettualmente, il colore reale dei materiali. Quello che andremo a fare noi praticamente sarà una cosa simile, diciamo, un pacchetto simile, tridimensionale. Per ottenere quell'effetto scala da entrambi i lati, dobbiamo prima di passare all'estrusione dei vari strati, delle varie polilinee, dei vari elementi, possiamo dire che sono dei rettangoli, vado a spostare, anzi ad ingrandire il rettangolo, progressivamente, i vari strati, progressivamente di 50 sulla sezione ancora bidimensionale. Quindi sposto appunto, parto con il tavolato, lascio la lamiera esterna, la lascio grandezza normale, parto con il tavolato, vedete l'effetto che voglio ottenere, parto poi col tavolato, qui trovo la parte strutturale, quindi le travi, cosa vado a fare? Vado a fare un rettangolo, con un nuovo rettangolo, e qui praticamente continuo con la stratificazione e faccio vedere il materiale isolante. Continuo poi con la membrana interna, sposto anche qui progressivamente 50, 100, 200, 150, 200 e così via. Scelgo poi, ecco qui vedete che ho il pieno controllo di tutti gli strati, questo qui è il materiale isolante interno, che in realtà è composto anche, come vi faccio notare, da listelli, perché sono listelli e tra un listello e l'altro c'è la presenza del materiale isolante. Quindi vado a fare più grande il listello in modo poi da farlo, da evidenziarlo nell'elettridimensionale, e lascio invece leggermente più piccolo, sempre di 50, il materiale isolante. Poi continuo con i due pannelli di cartongesso e io direi che ci siamo. Ho ottenuto questo primo risultato ancora nella parte bidimensionale, possiamo proseguire con la parte tridimensionale. Faccio un'ulteriore copia del modello, sempre per sicurezza, e imposto la vista, quindi l'ambiente di lavoro. Metto una vista a tre finestre con la finestra più grande a destra, dove nella parte alta a sinistra, nella finestra in alta a sinistra, lascerò la vista alta, quindi vista superiore. In quella in basso a sinistra metterò la frontale, mentre in quella che si trova sulla destra del monitor, dello schermo, la metterò a sonometrica. Poi scelgo l'area di lavoro elementi 3D di base, che diciamo che basta per quello che devo fare io in questo caso. Prima cosa che devo fare, essendo una copertura, devo ruotarla, nel senso, devo selezionarla, seleziono il giusto gismo per ruotare, seleziono l'asse di rotazione, in questo caso era quello rosso, metto l'angolo di 90 gradi e la vado praticamente ad alzare, quindi a ruotare di 90 gradi, in modo da poterla estrudere, da poter estrudere tutti gli strati secondo l'asse Y. Adesso cosa devo fare? Devo praticamente selezionare, lascio appunto, come avete visto, la finestra dei layer aperta, in modo da velocizzare il lavoro, vado a selezionare strato dopo strato, partendo da quello inferiore, quindi i primi due sono nel cartongesso, li vado ad estrudere progressivamente il primo di 1000, poi 950 e così via. Adesso passo ai listelli dello strato del materiale isolante interno. I listelli, adesso vado un attimo a verificare la sezione dei listelli, appunto è 80x50, questa è l'altezza di 50, quindi devo estrudere di 80, vado ad estrudere quindi un primo listello di 80 mm, vi ricordo che qui sto lavorando in mm, dopodiché vado a farne una copia, prendendo come punto base il punto centrale del listello, gli metto gismo spostamento, e gli do un interasse tra un listello e un altro di 600 mm. Adesso tra questi due listelli e dopo il secondo listello dobbiamo andare ad inserire praticamente il materiale isolante. Cosa faccio? Spengo il layer dei listelli e vado a ritrovare il rettangolo con le poliline che rappresenta appunto il materiale isolante e la vado ad estrudere di 800, di 900 mm, scusate. 900 mm, vado a riaccendere i listelli, adesso vedete che i listelli sono sovrapposti a quell'altro solido che rappresenta il materiale isolante, non mi rimane che fare una copia di questi due listelli e fare un'operazione boleana, un'operazione boleana di sottrazione. Copio il secondo listello sovrapponendolo all'altro, attenzione qui ho sbagliato, lo sposto un attimo, lo metto sovrapposto all'altro, vado a fare praticamente un'operazione boleana che AutoCAD appunto chiama sottrai, dove vado a selezionare prima l'oggetto da cui sottrarre, dopo gli oggetti da sottrarre. Attenzione, perché ho creato la copia? Perché AutoCAD non permette di mantenere gli oggetti da sottrarre una volta selezionati, mentre altri software lo permettono, AutoCAD li elimina senza lasciare la possibilità di mantenerli. Pertanto ho effettuato per questo le copie dei due listelli, altrimenti li avrei persi. Vado poi ad estrudere lo strato della membrana esterna. Proseguo poi, in questo caso, proseguo prima con le travi, ecco qui, modifico un attimo i nomi, non è montanti, ma è più corretto chiamarle travi, visto che stiamo parlando di una copertura, ricordo che è una copertura piana, vado a selezionare le due sezioni delle travi, li vado ad estrudere di 800 mm. Dopodiché proseguo con l'estrusione dei rettangoli che rappresentano il materiale isolante esterno, quindi isolante, fibra, ext, seleziono, invio e vado ad estrudere di 7,50, in modo da far sporgere leggermente le travi e metterle in evidenza. Proseguo, lo strato successivo è l'MDF esterno che chiude, diciamo, il pacchetto delle travi e del materiale isolante, sopra troviamo un'altra membrana, il telo traspirante, mentre quello precedente era il telo a vapore. Perfetto. Proseguo quindi poi con gli stelli sopra il telo traspirante, estrudo, in questo caso faccio l'estrusione di 600 mm, dopodiché questo qui si tratta, come vi mostro qui dalla tabella, di un tavolato con una sezione di 24 mm di altezza e 10 mm di 100 mm di base, pertanto sono delle tavole di 100 x 24. Vado quindi a fare una prima estrusione di 100, dopodiché vado a fare delle copie. Copio la prima tavola, dovrebbero entrarci almeno 5 tavole, perfetto, esatto. In questo modo lascio e faccio comprendere la presenza di un tavolato e non di un pannello unico. Dopodiché proseguo con l'ultimo strato, che è la lamiera coprente del tetto, e faccio un'estrusione di 450 mm. Così abbiamo ottenuto il nostro modello tridimensionale, partendo da una sezione bidimensionale, del nostro pacchetto della copertura. Vedete che è molto simile a quello proposto dalla nostra fonte, dataalls.eu. Adesso proseguo con la realizzazione, chiudo il gestore dei layer, che adesso non mi serve più, in modo da massimizzare le tre finestre, e vado a creare una copia del modello tridimensionale appena fatto, per ricavarne un esploso tridimensionale. L'esposto tridimensionale lo andrò a eseguire con l'utilizzo sia della vista assonometrica a destra, ma soprattutto farò uso della finestra in basso a sinistra, quindi la vista frontale. Vado a selezionare il primo strato, che è la lamiera coprente, dalla vista assonometrica, e poi dalla vista frontale la vado a spostare in alto, quindi secondo l'asse Z, di 1000 mm. Proseguo anche qui progressivamente, in questo caso di 100 mm alla volta, quindi vado a spostare in alto il tavolato di 900 mm, i listelli di 850 mm, in questo caso, per mantenerli più vicini al tavolato. Proseguo poi con il telo traspirante, il pannello MDF, qui faccio prima le travi, quindi seleziono le due travi comprese nel nostro pacchetto, e le alzo, secondo l'asse Z, sempre di 700 mm. Visto che le travi risultano molto più spesse rispetto ai materiali precedenti, non posso alzare progressivamente il materiale isolante di 600 mm, ma lo devo alzare di 400 mm, in modo da mantenerlo distante dalle travi. continuo con il freno a vapore, vado con 300 mm, anche qui poi trovo i listelli interni, gli listelli interni insieme a quell'isolante rappresentano, attenzione, rappresentano lo strato di installazione degli impianti, quindi lo strato dedicato all'eventuale passaggio di elementi dell'impiantistica. infine alzo anche uno dei pannelli di cartongesso per ottenere questo risultato qui finale. Questo risultato qui sicuramente, insieme al resto degli elaborati, mi aiuterà a comprendere la composizione e la struttura di un pacchetto bidimensionale, bidimensionale, tridimensionale di un pacchetto, scusate, di una parete, in questo caso della copertura di una struttura a telaio o platform frame. Ecco qui, io ho già realizzato il primo layout con l'impaginazione della sezione bidimensionale, proseguo col fare una copia di questo layout, dove vado a modificarne il titolo, non è più 2D ma 3D, torno all'area di lavoro, disegno e notazione, elimino la finestra già esistente che riportava solamente il bidimensionale, modifico naturalmente il cartiglio, aggiungo le caratteristiche riportate dal nuovo foglio, non è più la tavola numero 1 ma è la tavola numero 2, le scale, la scala in realtà non so se riusciamo a far entrare tutta una 5 o una 10 o una 20, una 5 dubito fortemente, per adesso metto scale varie. Seleziono il layer cartiglio e dalla finestra, dal ribbon layout, finestra di layout, vado a selezionare l'impostazione tre finestre con quella più grande a destra, dove vado ad inserire nella finestra in alto a sinistra la vista alto, quindi la vista superiore con wireframe 2D, che riporterà appunto la sezione bidimensionale iniziale con la relativa tabella degli strati del nostro pacchetto, nella finestra in basso a sinistra, scusate, inquadrerò in scala 1 a 10, vediamo, eh sì, può starci, quindi basta ingrandire la finestra leggermente, tanto abbiamo spazio sopra, comunque appunto vado ad inserire il modello tridimensionale semplice nel nostro pacchetto, vado ad adattare le due finestre a sinistra per far sì che il modello entri all'interno della finestra, perfetto, lo inquadro, quindi abbiamo detto in scala 1 a 10, dopodiché proseguo inquadrando sulla finestra più grande alla nostra destra l'esploso tridimensionale in scala 1 a 10. Vi raccomando, nelle viste tridimensionali, quindi sia nell'esploso che nella vista 3D semplice, dovete selezionare la modalità di visualizzazione ombreggiata, ombreggiato con spigoli. Vado a modificare a questo punto di cartiglio e vado a confermare la scala 1 a 10, visto che abbiamo utilizzato la stessa scala per tutti gli elaborati. Non mi rimane che dare un nome ad ogni finestra, quindi a denominare l'elaborato inserito in quella finestra, in questo caso sezione 2D, lo vado a mettere in basso a destra della finestra, vado a copiare la casella di testo, in corrispondenza dello stesso punto nella finestra in basso a sinistra, riportante il modello tridimensionale semplice, quindi vado a cambiare il testo, metto vista 3D, dopodiché vado a fare la copia, prendo un punto di riferimento che è l'angolo in basso a sinistra della finestra, questo qui andrò a chiamare esploso 3D. Dovremmo esserci. Andiamo a vedere adesso un'anteprima di stampa per assicurarci di aver rispettato tutti i criteri di impaginazione. Io direi che ci siamo, abbiamo raggiunto un ottimo risultato, e direi che questa tavola qui fa comprendere appieno la composizione del pacchetto. Spero sia stato tutto chiaro, vi invito a commentare qualora ci fossero dei dubbi o dei problemi. Vi saluto ragazzi e ragazze, a presto. Grazie.